Terzo appuntamento di Dopo il sipario, il salotto teatrale del mercoledì. Questa volta al Teatro Valle di Roma, ospiti di Maurizio Giammusso, il critico teatrale promotore dell'iniziativa, sono stati Franca Rame, attualmente impegnata nel chiacchieratissimo e censurato Sesso, grazie tanto per gradire, ed il sessuologo Willy Pasini, che ha presentato il suo ultimo libro, Il cibo e l'amore, edito da Mondadori. Nel libro, con il consueto connubio di tono conversevole, di cui è dotato Pasini grazie alla continua frequentazione di salotti televisivi e non, e di rigore scientifico, acquisito con anni di studio, vengono esplorati i legami strettissimi che uniscono in ognuno di noi le propensioni, le ripugnanze, le predilezioni alimentari e quelle sessuali. Dall'incontro tra l'attrice e lo psicologo, ne è scaturita una simpatica battaglia di consigli e precisazioni. Alla fine, un unico compromesso. Willy Pasini consiglierà lo spettacolo ai suoi numerosissimi pazienti, a patto che Franca Rame faccia delle piccole modifiche, di ordine scientifico, al suo ironico e dissacrante copione. Dopo il sipario ci dà appuntamento a mercoledì prossimo. Ospiti del salotto saranno gli attori della Compagnia del Piccolo Teatro di Milano e lo scrittore Antonio Spinosa.